Mi trovo a viaggiare in Magna Grecia in compagnia del viaggio autore inglese George Gistin e del suo libro guida sulla riva dello Ionio che racconta del suo viaggio svolto nell'inverno del 1897. Un viaggio alla ricerca dei luoghi nei quali fiorì la civiltà magno-greca, alla luce del suo interesse umano e letterario per il mondo classico. Qualsiasi settentrionale che trascorresse un giorno o due alla Concordia, da semplice turista, ne riporterebbe una forte impressione. Il personale dell'albergo gli parrebbe poco meno che selvaggio, tipi sporchi nella persona e nelle abitudini, dai modi assolutamente rozzi, sempre a litigare e a canzonarsi, privi di qualsiasi requisito per le incombenze che fingono di esercitare. In Inghilterra basterebbe il loro aspetto a disgustare i benpensanti. Avendo una più ampia occasione di giudicarli, superai il primo naturale impulso di antipatia, vidi i loro lati buoni e imparai a scusare gli errori naturali in uno stato di evidente primitivismo. Ci vollero due o tre giorni perché il loro comportamento sbrigativo si addolcisse in una cordialità veramente umana. Ma alla fine si arrivò a questo. E quando si seppe che non avrei dato noia, che avevo bisogno di un po' di attenzione quanto alla dieta, la buona volontà fece del suo meglio per venire in aiuto a una incapacità irrimediabile. Quando avevo la febbre alta, piccoli gruppi di persone entravano spesso nella mia stanza e rimanevano in piedi a guardarmi, scambiandosi a voce bassa delle osservazioni che pensavano non udissi o non capissi, anche se le udivo. In realtà il loro dialetto era ormai per me abbastanza comprensibile e capivo che stavano discutendo le mie probabilità di sopravvivere. I loro temperamenti non erano ottimisti. Per effetto, indubbiamente, dell'insalubrità del clima, tutti a crotone, a cotrone come si chiamava allora, sembravano avere delle disposizioni più o meno tetre. La padrona andava attorno e mettendo continui lamenti e gemiti «Ah, signore! Ah, Cristo!» esclamazioni che avevano forse qualche riferimento alla mia malattia, ma che non cessarono con la mia guarigione. Non potei sapere se avessi dei motivi personali, se avesse lei dei motivi personali di sconforto. Immagino di no. Era solo un'abitudine lagnosa e querula dovuta alla poca salute. Una serva, che qualche volta mi portava il cibo, scopersi che era lei che lo cucinava, si comportava in maniera quasi identica. Questa domenica, questa domestica, era la figura più primitiva di tutto l'albergo. Immaginate una donna di mezza età, sempre avvolta in stracci sudici, da non chiamarsi vestiti, obesa, sporca, con i capelli neri spettinati e mani così segnate, così deformate dal lavoro e dalla trascuratezza, da non sembrare quasi più umane. Fra lei e la padrona era tutto un leticare. Leticavano nella mia stanza, nel corridoio, e in posti più lontani, come capivo dalle loro voci stridule. eppure sono sicuro che non si volevano male e che probabilmente non avevano mai avuto l'idea di separarsi. Una sera questa donna entrò inaspettatamente, si fermò accanto al letto e cominciò a parlare con una così fiera energia, con tali lampeggiamenti degli occhi neri e storcendo talmente il viso che potei soltanto pensare che mi aggredisse per il disturbo che le procuravo. Passò un minuto o due prima che potessi indovinare almeno il senso generale del suo furioso discorso. Fra gli abitanti del luogo lei era sempre stata la più difficile a capire e quando si adirava diventava quasi incomprensibile. A poco a poco, a forza di domande, arrivai a capire cosa voleva dirmi. Erano stati guai, peggio di sempre. La padrona l'aveva strapazzata in modo insopportabile per non so quale mancanza. E non era forse duro essere trattata così dopo aver tanto, tanto lavorato? Essa, in realtà, faceva appello alla mia compassione. Non voleva affatto offendermi. Quando proseguì dicendo che era solo al mondo, che tutti i suoi erano freddi morti, la pateticità della sua fisionomia e delle sue parole mi impressionò. Era come se un animale da fatica, oppresso sotto il carico, avessi improvvisamente trovato la parola e protestasse nei rudimentali esordi dell'espressione articolata contro il suo destino. Se avessi potuto conoscere, nei particolari più minuti, la vita di questa schiava casalinga, come sarebbe stato interessante e tristemente pittoresco contro lo sfondo di quel paesaggio romantico e di una storia solenne. Guardai a lungo il suo viso incavato e grinzoso cercando di immaginare i pensieri che governavano la sua espressione. Mi sforzai di parlarle gentilmente e vi riuscì in una certa misura perché il suo ah Cristo quando si voltò per andarsene non era privo di qualche sollievo. Un'altra volta la padrona si infuriò contro il cameriere perché mi aveva portato del latte di capra molto acido. Seguì una scena comicissima. Il donnone minacciava e tempestava in un accesso di furia. il cameriere un giovane spirungone con un viso semplice e buono dopo aver cercato di spiegare che aveva commesso quel fallo per distrazione a un tratto alzò una mano come uno che stesse per esortare una congregazione e esclamò in tono di offesa rimostranza un po' di calma un po' di calma il mio scoppio di risa a questa uscita inimitabile pose fine alla baruffa il giovane si mise a ridere insieme a me la padrona lo spinse in fretta fuori dalla stanza e poi cominciò a spiegarmi che era debole di cervello ah esclamava che vita con quella gente la fatica che durava a tenerli in ordine quando si ritirò la sentì espettorare rumorosamente nel corridoio abitudine condivisa da tutto il personale di questo simpatico albergo quando il peggio della malaria fu passato sorse il problema di ottenere una nutrizione adatta al mio stato il buon dottore che aveva consigliato bistecche in marsala quando non potevo prendere assolutamente nulla mi teneva a una dieta severa ora che cominciavo ad avere davvero fame spero di non essere mai più costretto a bere latte di capra in quei giorni l'ho presi talmente annoia che non posso pensarci neppure ora senza rabbrividire il brodo che mi veniva somministrato era infame un po' d'acqua tinta sotto due centimetri di unto galleggiante una volta mi fu promesso un pollo e lo aspettavo con impazienza maimè e il disgraziato volatile aveva subito una lunga ebollizione per la preparazione della minestra avrei sfidato chiunque a distinguere la sostanza che rimaneva da quella di due o tre guanti vecchi di capretto bolliti e mi consigliò sì sì avete capito bene due o tre guanti vecchi di capretto bolliti e appallottolati insieme con aria compiaciuta un giorno la padrona mi consigliò un piccione un piccione arrosto ed accolsi con gioia questa idea veramente l'aspetto della pietanza quando mi fu portata non aveva nulla che potesse farmi passare l'appetito l'odore era gustoso e mi preparavo a un pasto succulento per pura bontà d'animo vedendomi tremare dalla debolezza la donna si offrì di aiutarmi a tagliarlo afferrò il piccione per le zampe lo spaccò in due gli strappò le ali con lo stesso sistema e poi con un sorriso di soddisfazione si pulì le mani alla sottana se le sue mani avevano toccato acqua per non parlare del sapone in tutto un anno mi sbaglio di grosso fu un peccato perché mi accorsi che i miei denti riuscivano a masticare solo una piccola porzione di quella carne che la fame mi costringeva ad assalire naturalmente soffrivo molto la sete e il dottor sculco un giorno mi fece la sorprendente domanda se mi piaceva il tè il tè si poteva davvero procurarselo il dottore mi assicurò che si poteva trovare dal farmacista sebbene considerando quanto di rado veniva richiesta questa bevanda esotica potesse aver perso un po' del suo aroma restando negli scaffali della farmacia fu mandato un ordine e poco dopo il cameriere mi portò un involtino di carta piccolissimo che avrebbe potuto contenere un paio di bustine di polvere di sei dritz apertolo vidi della roba nera e sminuzzata una sostanza in briciole che sembrava del carbone tritato lo annusai ma non si sentiva nessun odore me ne misi un po' sulla lingua ma l'effetto fu quello di polvere procedendo a trattarlo come se fosse vero tè riuscì a dare una tinta giallina all'acqua calda e avevo tanta sete che fui tentato a prendere un lungo sorso di questa bevanda non ne derivò alcun male o almeno non me ne accorsi ma l'involtino di carta non fu più toccato e quando partì ne feci dono alla padrona per completare il gruppo domestico devo rammentare la cameriera questa non era altro che un vivace ragazzino di circa 12 anni figlio della padrona che mi divertiva moltissimo non so se esercitasse le mansioni di cameriera in tutte le stanze probabilmente la cuoca dagli occhi feroci faceva altrove i lavori più pesanti ma io fui sempre servito da lui a un'ora imprecisata della sera entrava naturalmente senza bussare si levava il berretto in ceno di saluto e cominciava a domandarmi come stavo la domanda non avrebbe potuto essermi fatta con maggior decisione e gravità dal dottore in persona quando rispondevo che stavo meglio l'ometto esprimeva la sua soddisfazione e procedeva a fare qualche commento sul pessimo tempo finalmente con un gesto di cortesia mi chiedeva il permesso di fare un po' di pulizia e si metteva a farla con grande sveltezza eccetto il buon sculco la mia cameriera era senz'altro la persona più civile che avessi incontrato a Cotrone aveva una singolare amabilità di natura e la sua vivacità di ragazzo non era ancora stata domata dal clima pestilenziale se lo ringraziavo di qualcosa si levava il berretto si inchinava con comica dignità e rispondeva grazie a voi signore naturalmente questa gente non usava mai il pronome di terza persona femminile degli italiani beneducati il dottor sculco lo usava perché avevo cominciato io a rivolgergli la parola in quel modo ma evidentemente non era una forma familiare alle sue labbra nello stesso tempo vigevano certe forme di cortesia che sembravano un po' esagerate per esempio quando il dottore entrava nella mia stanza e io gli davo il buongiorno era solito rispondermi troppo gentile il ragazzo dei giornali venne regolarmente per qualche giorno sempre lagnandosi di brividi di febbre poi scomparve chiesi di lui era a letto malato e siccome nessuno prese il suo posto immagino che la regolare distribuzione dei giornali fosse sospesa a codrone quando il povero ragazzo ricomparve aveva un viso sciupato si sedette accanto al mio letto con l'acqua che gli sgocciolava dal berretto e la mota alta sulle scarpe per farmi il racconto dei suoi mali mi raffigurai quella specie di tana in cui era stato coricato durante quelle ore di patimento la mia camera conteneva lo stretto necessario e come avrebbe detto quel signore di Cosenza lasciava un po' a desiderare in fatto di pulizia immaginatevi in quali posti devono strisciare i poverissimi di Cotrone quando sono colpiti dalla malaria o dalla malattia in genere riconosco tuttavia che quel pensiero mi fece soffrire allora più di oggi dopo tutto gli abitanti di Cotrone hanno dei vantaggi sugli abitanti di Tuguri londinesi ed è meglio morire in una baracca presso lo Ionio che in uno scantinato di Shoredic la posizione della mia stanza che guardava sulla piazza mi dava la possibilità di seguire gran parte della vita paesana la vita di Cotrone cominciava verso le tre del mattino a quell'ora udivo le prime voci presto seguite dai belati delle capre e dal tintinio dei campani senza dubbio la maggior parte della povera gente era già a letto alle otto di sera solo quelli che avevano rapporti col mondo esterno davano segno di vita quando arrivava la diligenza verso le dieci e ho il sospetto che alcuni di loro schiacciassero in un pisolino prima di quest'ora così tarda per tutto il giorno risuonava nella piazza un incessante brusio di voci il rumore che in Inghilterra potrebbe essere prodotto da una folla eccitata in qualche speciale occasione esso era cresciuto dall'eco del porticato che circonda la piazza davanti alle botteghe quando il vento di nord est fu passato vennero alcune giornate di tetra bonaccia che permisero alla gente di riprendere la solita vita all'aperto mi abituai a riconoscere certe voci quelle di uomini che apparentemente non avevano altro da fare che chiacchierare tutto il giorno soltanto il suono arrivava fino a me mi sarebbe piaciuto afferrare il senso di quelle arringhe e di quei dialoghi interminabili in ogni paese in ogni tempo quelli che parlano di più sono quelli che hanno meno cose interessanti da dire i chiacchieroni cotrone avevano avuto i loro predecessori sulla piazza pubblica di crotone che cominciavano a chiacchierare all'alba e seguitavano ininterrottamente fino al buio con le loro voci dovevano spesso mescolarsi i belati delle capre o il mugito dei bovi proprio come li udivo io un giorno passò un organetto accompagnato dal canto e come ne fui contento quella fu la prima nota di musica che ascoltasse a cotrone lo strumento suonava solo due o tre canzoni e una divenne molto popolare presto molte voci si unirono a quella del cantore e per tutto il giorno ed il giorno successivo risuonò la melodia vicino o lontano aveva le vere caratteristiche della canzone meridionale tremoli ascendenti e cadenze che finivano in un gemito di passione alte note di falsetto e un basso tum tum infinitamente malinconico queste canzoni sono disprezzate dai musicisti eppure come esprimono bene il temperamento di un popolo e come suggeriscono la sua storia nel momento in cui questa melodia mi giunse all'orecchio stavo pensando male di cotrone e dei suoi abitanti alla prima pausa della musica mi rimproverai amaramente la mia meschinità ed ingratitudine tutte le colpe degli italiani sono perdonate appena la loro musica risuona sotto il loro cielo ci si ricorda di tutto quello che hanno sofferto e di tutto quello che sono riusciti a fare malgrado i torti ricevuti razze brute si sono gettate una dopo l'altra su questa terra dolce e gloriosa la sottomissione e la schiavitù sono state attraverso i secoli il destino di questo popolo dovunque si cammini si calpesta sempre un terreno che è stato inzuppato di sangue un dolore immemorabile risuona anche attraverso le eccitanti note della vivacità italiana è un paese stanco e pieno di rimpianti che guarda sempre indietro verso le cose del passato banale nella vita presente e incapace di sperare sinceramente nel futuro commosso da queste voci che cantavano sopra la polvere di crotone chiedevo perdono di tutta la mia stupida irritazione delle mie critiche sconvenienti per quale motivo ci ero venuto se non perché volevo bene a questa terra e a questa gente e non ero forse stato abbondantemente ricompensato di quest'amore è legittimo condannare i dirigenti dell'italia quelli che si incaricano di plasmare la sua vita politica e sconsideratamente la caricano di pesi insopportabili ma fra la gente semplice che vive sul suolo italiano uno straniero di passaggio non ha nessun diritto di coltivare sentimenti di superiorità nazionale di indulgere a una sprezzante impazienza questo è segno di volgarità turistica ascoltate un contadino calabrese cantare mentre segui i buoi lungo il solco o scuoti i rami del suo olivo quella voce dolente nell'antico silenzio quel lungo lamento per confortare un lavoro mal ricompensato viene dal cuore stesso dell'italia e risveglia la memoria del genere umano